Katnab ottiene un fan club. Volevano prenderlo e uno di loro lo ha ucciso e devo trovare il suo assassino. Katnab è morto. Smiling? Allora forse tu Dog Day? Mi ha tagliato la gamba. Anch'io ti amo. Anch'io ti amo. Cosa? Per favore no. Ma sei uscito. E allora? Stavo cercando di prenderlo ma lui ha usato il gas. Ho bisogno di scappare. Ah, dove pensi di andare? Per favore no. Oddio, no. Forse unisbilight? Mi ha fatto schiantare. E poi qualcosa mi ha preso. No, 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 no. Ok, allora forse Pink Pig. Aveva una respirazione disgustosa e la gente stava morendo. Oh mio Dio, ho bisogno di quel nuovo modello di donna Katnab ma aspetta. Oh no, la coda è troppo lunga. Ah, andiamo. Ti amo. Anch'io ti amo. Aspetta, vedo un naso di Boba Fanta. Mi ha tagliato il naso e ne ho uno nuovo. Che giornata meravigliosa. Cosa? Ho bisogno di prenderne uno nuovo. Ah, ora posso vendicarli. Aspetta cosa? Il prossimo è Ugi Wagi. L'ho portato a provare tutti i jump scares al museo. Oh mio Dio, questo è Ugi Wagi. Ma aspetta, cos'è quell'interruttore? Oh mio Dio, questi sono jump scares. Devo controllarli tutti. Andiamo con il primo. Tu, Poppy. Ha ucciso Kissimissi. No, per favore, non farlo. Ah, è finita per te. Cosa è successo dopo? Volevo salvarla ma lui mi ha mangiata. Devo aiutarla. No. Ti mangerò, ah. Oh mio Dio, sono dentro di lui. Ho un'idea. Posso farlo esplodere, ah. L'ha ucciso. No, te lo prometto. Poppy è morto. Cosa? Chi è alla porta? Ciao a tutti. Aspetta, forse sei stato tu a fare questo? Per prima cosa Katnab ci ha sparato addosso del gas. Così l'ho buttato nel bidone. Ok, questo è un po' sospetto. Aspetta cosa? Prototipo. Non ha fatto il suo lavoro. Così l'ho fatto scattare con l'elettricità e gli ho messo la lama in bocca. Oh mio Dio, quindi l'hai mutato. Chi potrebbe essere? Cosa? Chi sei? Sono una creatura normale e sorridente e nessuno mi ha voluto così. Sono stato gettato nella spazzatura. Per favore, non fatelo. Ah, è finita per te. È stata una mia idea. Oh mio Dio, sta arrivando qualcuno. Aspetta chi? Qui, qui, qui. Oh mio, che cos'è? Questo tipo di Katnab ha ucciso mio figlio. Sono d'accordo. Il mio capo. Odio i Katnab. Non so cosa ci faccio qui, ma mi piacciono le proteste. Aspetta, sta arrivando qualcuno. Cosa sta succedendo qui? Sono l'amministratore delegato di Poppy Playtime. Hai ucciso Katnab? Vendevo questi giocattoli, ma non sapevo che avessero quelle cose al loro interno. Quindi sei tu la persona cattiva. Oh no, dov'è il corpo? Le macchie di sangue portano lì. È Boxy Boo. Lo sapevo. L'hai ucciso tu. È un regalo per le vacanze. Ma tutti hanno preferito Katnab a me. Ho un regalo speciale per te. Davvero? Grazie. Odio questo. Non preoccuparti, figliolo. Ti ho portato a te. Grazie mamma. Grazie papà. Wow, lo adoro. Ti piace? Sì, è così bello. Wow, wow, wow! Ma come hai iniziato tutto? Papà, voglio un giocatolo per Natale. Scegli uno ragazzo o-o-o. Ne voglio uno viola. Wow, sto nascendo. Prima testa. Poi il torso. Ora la coda. Ora i denti. Cos'è questo? Ora questo. E questo. Ora gli occhi. Bello. Denti. Salti di gioia. Ora gas. Che cosa è questo? Ora Katnap. Molto bene. Ciao a tutti. OMG, è così dolce. Oh no, sei così sporca. Lascia che ti lavi prima che i genitori ti vedano. Figliolo, devi buttare via quella cosa. You never listen, do you? How many times have I told you to throw that thing away? Mamma, please. I'm not enough. I'm not enough. I'm not enough. Ow! Give it to me! No! Bruce, sono appena stato distrutto e preso a calci dai suoi genitori. Puoi adottarmi? Ah, mai tu piccolo. Aspetta, dove sono? Devi fare il salto di qualità per tornare dalla tua famiglia. E per fare il salto di qualità uccidi la finta donna del pisolino. Ok, prima di tutto questi due sembrano molto simpati. Prima di tutto, anche tu, aspetta, è finto. Tempo di aggiornamento. Wow, ora disegnate voi stessi. Che cos'è questo? Buono, bello, wow, sembra ok. Aspetta cosa? Bello, buono, cosa, che diavolo, questo è falso. È un cane, morire. Ora canta una canzone. Buono, il prossimo. Il suo sus, prossimo. Buono, prossimo. Oh, colera. C'è tu Freddy Fazbear? Falso. Morire. Freddy. Come back. Tornare. Aggiornamento. Andiamo. Era su. Mamma gambe lunghe. Lo sapevo. Aggiornamento. Andiamo. Ora mostrami cosa c'è nella tua scatola. Prima. Cosa. Sembra un vero e proprio sonnellino. Il prossimo. Cosa. Prossimo. Prossimo. Cosa. Di più. E altro. E altro. Cosa. E più. Ora tocca a te. Sembra un boxy boo. Non c'è modo. Muori, sei falso. Lo sapevo. Aspetta. Questo sembra sospetto. Lascia che ti tolga la maschera. Lo sapevo. È tempo di aggiornamento. Valuta tutti questi jumpscare per vedere qual è il migliore. Inizia con Dog Day. Oh no. Lasciatemi. Per favore. Vai e basta. Correre. 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 Abbraccio Wagi. Benvenuto a casa. Sa male. Bene. Ora lei. Ora creatura rossa. Ora rosa. Ora blu. Ora bianco. Ai. Ora arancione. La mia testa. Ora verde. Ora giallo. E ora Ugi Uges. Il prossimo è Dino. Il prossimo è Dino spaventoso. Il prossimo è Paga Pillar. Spero che non sia spaventoso. Ai. Non vedo l'ora che è ridica Tna per Prototype. Ora Bunzo Bunny. Ai. Ora player ma con la maschera. Ora è gatto. Ai. Ora Poppy. Oh mio Dio. Ha un aspetto inquietante. Il prossimo è il cane viola. Ora è il momento di Mommy Long Legs. Ha un aspetto strano. Ai. Ora è il momento di Kissy Missy. E ora Kissy Missy ma con Poppy. Robo. Sembra così spaventoso. E Killy Billy. Guardate la sua pancia. Ora Ugi Wagi con Prototype. Ai. Ora Daisy. Mio. Ora Boxy Boo. Ora questa cosa. Andiamo. E ora Daddy Long Legs. Andiamo. Ai. Il prossimo è Ugi Wagi ma distrutto. Guardate la sua testa. È così triste. Andiamo. Ahi. Ora Cutmap. Questo è ciò che stavo aspettando. a B Ahi, e ora Prototype, andiamo! Ora diamo vita a tutte le mie creazioni. Entra dentro il bambino. Wow, sono stato creato. Viola o rosso? Viola. Gambe di cutnab o gambe normali? Cutnab. Wow, così cool. Ora, camicia disordinata o camicia cutnab? Cutnab. Wow, sto bene. Ora cutnab bocca o normale? Cutnab. Ora orecchie cutnab o altro? Cutnab. Wow, ora coda viola o coda di cane? Viola. Wow, e ora naso normale o naso da gatto? Cutnab. Così cool. Ora occhi di cutnab o occhi di ragazza? Cutnab. Wow, così cool. Ora cutnab catena o normale? Cutnab. La catena. Faccia da cutnab o faccia da ugi uagi? Cutnab. Wow. Ora bocca di cutnab. Oh mio Dio. E diventare cutnab? Wow, sono così figo. Il mio turno. Marrone o giallo? Marrone. Freddo. Coda arancione o nera? Quello arancione. Freddo. Lingua o questa bocca? Questa bocca. Wow. Bantaloni arancioni o blu? Arancia. Ho un bel aspetto. Mani arancioni o forti? Arancia. Wow. Sembra fantastico. Occhi strani o normali? Normal. Freddo. Questa cosa adesso? Wow. E ultimo. Wow. Ho un aspetto fantastico. I miei mostri sono pronti. Sto trasformando crafty corn. Bianco o rosa? Ovviamente bianco. Non scelgo questo colore. Afro o corna? Corna. Oh. Fiore o fiore raro? Questo. Carino. Sembra fantastico. Unicorno o gambe arrabbiati? Gambe. Belle gambe. Coda o mano? Linea. Wow pazzesco. Cacca o bocca? Bocca. Fantastico. Afro o cacca? Afro. Wow. I miei capelli sono fantastici. Orecchie o cacca? Orecchie. Wow. Le mie orecchie sono fantastiche. Lascia uscire. Sono diventato un unicorno. Verde o blu? Blu. Fresco. Ora. Questa testa sagomata o testa di orso? Udia questa. Wow. Ora. Denti spaventosi o denti inocenti? Io scelgo quelli spaventosi. Dannatamente. Ora. Bocca o labbra rosse? Preferisco la bocca rossa. Fresco. Ora. Gambe gialle o normali? Gialle. Wow. Ora. Guanti bianchi o guanti gialli? Gialli. Bello. Ora. Occhi neri o occhi blu? Preferisco i neri. Wow. Ora. Nastro o baffi? Nastro. Pazzo. E ora. Televisioni o iPhone? Televisione. Oh mio Dio. E ora. Sì. Più spaventoso Udia. Wow. E ora ancora più spaventoso. Cosa sono diventato? Questa tv è fantastica. Fratello. Questo negozio è strano. Aspetta. È il giorno Dog Day? Andiamo lì. Ciao Dog Day. Sono un grande fan. Per favore aiutatemi. Cosa stanno facendo quei giocattoli? OMG cosa? OMG ce ne sono così tanti. Aiuto. Carlos no. Spero che Carlos stia bene e che questo cane sia solo un giocattolo. Aspetta. Aspetta. Questo sembra buono. Ah. Lo prendo. Fammi trovare un cassiero. Ciao. Un catnab per favore. Che diamine. Sai che questo negozio è strano? Ho giocattoli migliori a casa. Mamma. Papà. Sono tornato. Giocherò con i miei giocattoli. Finalmente. Aspetta. Sono scomparsi. Forse li ha presi mio padre. Spero che non l'abbia fatto. Aspetta. Perché sono così grandi e sui muri? Ehi, figlio, ci fai i noodles. Va bene, papà. Ora ci proverò. Nom nom. Papà, ti è piaciuto. Era disgustoso. No, papà, mi dispiace. Come abbiamo? Come abbiamo? Ok. Mi sto nascondendo qui. I miei genitori mi odiano. Ma non mi arrenderò mai. E anche voi dovreste farlo. È ora di guardare la tv. Um e che diavolo è questo? Credo che questa tv sia rotta. Andiamo a giocare. Welcome home. And in return, there are fat, and we'll try to fight it. The prototype's control. I am the last of the spike. Um e. Giocattoli. Cosa stai facendo? Sorpresa. Veloce. Costruiamo un muro. Ok, fatto. Vediamo le telecamere. Oh no, mia sorella e la mamma. Prossima telecamera. Devo vedere se c'è una via di fuga. La telecamera è morta. Ragazzi, non credo che uscirò mai da questa stanza. Aspetta, questo è PopCat. Gregory, dove sei? No, PopCat. Aspetta, sta arrivando qualcuno. Sono sopravvissuto. Perché questo odore è così cattivo. Ciao Gregory, ho scoreggiato. Fratello. Dobbiamo uscire da questa casa. E ho un'idea di come. Come Carlos. Io sono Catnab. Che diamine. Ciao a te. Catnab, come stai? Ugi, lui è falso. Io sono quello vero. Ugi controlla quale è reale. Giusto. Fammi vedere le tue sigarette che dormono. Non male. Punto per te. Grazie. Aspetta, che diamine. Ok, ora mostrammi cosa hai mangiato per cena. Non male. Ora Catnab secondo. Punto per te. E infine la cosa più importante. Catnab era una cantante professionista. Non sono un cantante professionista. I am Catnab, come to destroy you. I am Catnab. Oh mio Dio, così bella. Ora ti faccio saltare in aria. Aspetta. Ti l'avevo detto che era falso. Torna indietro. Mi ha preso. Ah, vieni con me ora. Oh no, hanno preso Carlos. Cosa gli faranno? Entra nell'operazione. Ora trasformiamolo in uno di noi. Non mi sento bene. Ora è il momento di prendere il prossimo. Vedo qualcuno qui. Let's do this. Veloci. Carlos, salta qui sulla mia schiena. Usciamo. Aspetta, vedo Catnab. No, Carlos. Carlos, scappiamo. Non mi sento bene. Oh no, prototipo. No, per favore no. Smettila. Per favore. Catnab no. È vivo. Polizia, polizia. Ho trovato dei mostri in casa mia. Ha ha ha. Ha ha. Ok, vediamo questi mostri. Vieni. Ti prometto che sono reali. Qui, ma fai attenzione. Bambino, questi sono giocattoli. Non chiamare mai la polizia. Sono giocattoli normali. E sono molto arrabbiato. Ti darò una valutazione negativa. Dietro di te. Non guarderò. Non mi ingannerete. O.M.G. No. Aspetta, quei giocattoli sono veri? O.M.G. Cosa? Carlos, stai bene? Aspetta, sento qualcuno. Aspetta, cosa è successo? Carlos, sei vivo? Cosa è successo al mio amico? È morto. Devo uscire e chiamare l'esercito. Mia zia è una soldatessa di bacon. Oh no, Catnab. Oh no, Miss Delight. Al bagno. Veloce. Vieni qui. Aspetta, no. Usciamo. Catnab, non hai fatto il tuo lavoro e ci hai tradito. muori ora. Farò lo stesso con te e la tua famiglia se non trovi Gregory. Come pagherà la tua famiglia per questo? Ti prego, non farlo. Lo troverò. Carlos, se potessi rianimarti lo farei. Inoltre ho preso in prestito i tuoi dieci Robux per il pranzo, ma non lo saprai mai. Cosa? Oh Carlos, aspetta, chi è questo? Aspetta cosa? Cosa? Kissimi, si fai qualcosa con lui. Aspetta cosa? Aspetta cosa? Perché sto guardando un Catnab? Perché tu sarai il salvatore. Ora per fare l'upgrade devi passare attraverso tutti i jumpscares. Buona fortuna. Oh mio Dio. Ok, allora vediamo il primo. Così spaventoso. Il prossimo è il ragazzo rosso. Era così spaventoso, ma sono sopravvissuto. Ora vediamo l'elefante jumpscares. Ora è il momento del peluche di Catnab. Uguale agli altri ma viola. Aspetta, sento il cambiamento. Sembra buono. Ora un icono. Ok, questo è lo stesso. Ora Dog Day. Ai. E l'opsti o pscotch. Spaventoso. Ne rimangono solo cinque. Ai. Ora Ugi Wagi. Blood ha perso la faccia. Questo era il migliore. Ora Catnab. Sta diventando il numero uno. Ora Dog Day. Spaventoso. E l'ultimo. Prototipo. Vediamo. Spaventoso, ma ora posso sentire l'aggiornamento. Aspetta, mi sbaglio o ora posso sparare? Mi sento fido. Ok, per ottenere il prossimo aggiornamento devi scivolare da questi scivoli. Ok, veloce. Let's do this. Dove sono? Oh no, chi è questo? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ce l'ho fatta. Tempo di aggiornamento. Sembro un po' un mutante. Veloce la prossima diapositiva. Catnab. Dove sono? Aspetta, chi è questo? No, 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 no. Torna indietro. Gas. Non mi sento bene. Sento il gas del Catnab. Oh mio Dio. Ma aspetta. Sento il prossimo aggiornamento. Wow, sono mezzo oro Catnab. Così ora Dog Day scivola. Aspetta, chi è questo? Chi sono queste persone? Aiuto. Ce ne sono troppi. Ce l'ho fatta. Andiamo. Ora tocca a me. Aspetta, chi è quello? Abbraccio di Wucces. Qualcuno mi aiuti. Spaventoso, ma ce l'ho fatta. Aspetta, ci sentiamo aggiornati. Sembriamo belli. Ok, per ottenere i prossimi aggiornamenti devi vedere tutte le loro facce. Mi chiedo che aspetto abbia Ugi Wagi. Cosa? Non è possibile che sia me. La signora Delizia è la mia cotta. Controlliamo. Wow è una ragazza anime. È ancora più bella. Il prossimo è Missy Pissi. Vediamo. È così bella. Smettila di fare il simpatico. Fratello. Il prossimo è Boxy Boo. Quello è il Rock. Ora Ubi Wagi vediamo. Non c'è modo. Come mi hai trovato? Non c'è modo. Ora Poppy. Vieni a baciarmi. Stop al Cut Nut. Ora Unicorno. Ora Cut Nut. Lenky Box niente da fare. Ora Maiale. Ora Peluche Dog Day. Cosa? Ora Peluche Verde. Pagliaccio. Peluche giallo. Blu. Rosso. E questo è tutto. Ok. Prendi il nuovo aggiornamento. Sembriamo dei mostri. Quindi ottenere il prossimo aggiornamento per essere migliore. Ok. Ora dovete essere valutati per ottenere l'aggiornamento. Prima signora di Light. Ha spaventato il giocatore ma è stata uccisa. Vieni qui. Cosa? Aiutami per favore. Sono una brava persona. Davvero? Stavo scherzando. È stato brutto. Era legata come Dog Day. Si è innamorata di Cut Nut ma lui non l'ha voluta. Era bella prima ma è cambiata. Che bella giornata. Cosa? Ho un aspetto orribile. Cosa mi hai fatto? Sei cattiva. Oh no. Il prossimo. Ciao. Ha sparato alla famiglia e l'ha distrutta. Ti piace? Sì. È così bello. Sonnellino. È stato cattivo. Ha sparato alla famiglia con il giorno del cane. Sei un pessimo essere umano. Stava lodando il prototipo. Ok, il prossimo. È stato ucciso da prototipo. Ha diversi jumpscares. Così spaventoso. Successivo. È stato mutato. Vai al bene perché ho paura di te. Grazie. Mi sento migliorato. Wow, sono un robot. Successivo. Incubo di Ugi Wagi. Il suo jumpscare era dalla TV. Che bella TV. Che diavolo. Aiutatemi. Ha rubato il Dog Day alla sua TV. Che bene. Ti ho preso solo per il tè. La sua famiglia era in pericolo. Giocatore, per favore, non farci questo. Lo farò. Tu sei buono per me. Ok, ora cane d'ane. Ok. Le sue gambe sono state tagliate da un prototipo. Le mie gambe aiutano. Aspetta, cosa stai facendo? Fratello. Le creature sorridenti sono entrate nel suo corpo e lui si è trasformato. Oh mio Dio, è stato spaventoso. Mi sento aggiornato. Wow, sembro un robot. Ok, per ottenere il prossimo aggiornamento, uccidili tutti. Ok, sarà facile. Primo abbraccio. Usiamo la scatola. Il suo morto. Ora mamma. Mettiamola nel tritacarne. Ora catnap. Usiamo il prototipo. E il prossimo cani d'ane. Userò le creature sorridenti. E ora poppi playtime ceo. La mano. No, lasciami andare. Non ti preoccupare. Andrai nella fornace. Non lasciarmi andare. Non lasciarmi andare. Enjoy the fall. E ultimo papavero. Facile. Così ora l'aggiornamento. Wow, siamo perfetti. Aspetta, chi è questo? Dog Day è morto. Chi ha fatto questo? Smiling Creatures. Abbiamo preso il controllo su di lui. No! Leapy! Porra, solo... Perché sei entrato in lui? Ugi-wagi ci ha detto. Ok, l'ho solo spaventato. Ti ho preso solo per il tè. Ok, il prossimo. Miss Delight. Stavo cercando di aiutarlo perché gli stavano tagliando le gambe. Aspetta, cosa sta succedendo? È tempo di tagliarti. Fermati. È troppo tardi. Non ha le gambe. Perché hai fatto questo? Tempo per te. Oh no! In cosa mi hai trasformato? Aiuto! Cos'è successo dopo? Qualcuno mi ha ucciso. Oh mio Dio, è così triste. Ok, forse Catnab. Usavo il fumo per farli dormire. Catnab! Please, help us go to sleep, Catnab! Ok, allora si sono addormentati. Forse Boxee. No, ero solo arrabbiato con Catnab. Thank you! I hate this! Odio questo. Forse questo. Wow, sono perfetti. Ok, se non sei stato tu, allora fossi Pluto Time. Dog Day controlla tutti i jumpscares dal capitolo 3, poi dal capitolo 2 e poi dal capitolo 1. Ok, sarà facile. Bao Bao in primo. Era così spaventoso. Ora maiale. Il prossimo è giallo. Oh mio Dio. Ora blu. Ora viola. Mi sento così male. Ora è il momento dell'unicorno. Andiamo. E ora verde. Il prossimo è Dog Day. Ahi, ora la bambola. Continuo a sorridere. Non perdo la fede. Ora Dog Day. Oh mio Dio. La mia testa. Il prossimo è Ukiwaki. Vediamo. Ora è il momento di Catnab. Ahi, il prossimo è quello grigio. Andiamo. Ahi, e ora il Prototype. Ahi, ok. Sono sopravvissuto. Quindi ora il capitolo 2. Oh no. Ok. Il prossimo è il Gatto. La mia testa. Il prossimo è Player. Non so se sopravviver. Il prossimo è Bunzo Bunny. Cat B. Foxy Boo. Mamma e Papàvero. Ora Fiore. Il prossimo è Daddy Long Legs. Il prossimo è Paga a Pillare. Prossimo robot. Potrei morire. E abbraccio. E ultimo, Poppy. Aspetta, allora sei tu? No, era Catnab. Ouch, dove sono? Devo valutare che i jumpscares si aggiornino. Prima Poppy. That's the most adorable thing I've ever seen. I like Fire now. Ahi, ora Critter Rosso. OMG, ora Rosa. Prossimo giallo. Elefante. Catnab. Mi fa male la testa. Ora Unicorno. OMG, ora Obstie Obstcoach. E Dog Day. Ora Robot. Oh mio Dio. Non vedo l'ora che arrivi l'ultimo. Prossimo, Kirby. Ora Gatto. Dino. Player. Bonzo Bunny. I miei pantaloni. Ora Miss Delight. Il prossimo Paga a Pillare. Tutto il mio corpo. Ubiwaghi le palle. Il prossimo è Boxie Boo. Ora Kissy Missy con la Mommy. Confronta quanto è alta. Mommy Long Legs. Il prossimo è Daddy Long Legs. E il fiore. Ho perso le mie parti del corpo. Ora Prototype. Andiamo. Era spaventoso. La mia mano. Il prossimo è l'incubo di Ubi. È così grande. Oh mio Dio. Ora l'incubo del Dog Day. Ai. Ora Catnab normale. E l'ultimo. Incubo Catnab. Così spaventoso. Aggiornamento. Wow siamo così cool. Catnab si è innamorato di A Catnab Woman. E semplicemente tutti. Ti amiamo. Smettila di fare il simpatico. Stai andando a triturare come a mamma gambe lunghe. Cosa? No. Lasciami in pace. Per favore no no morirò ora. Ah lavoro facile. Aspettate. Abbiamo bisogno di creare un nuovo Catnab Woman. Quindi prima pelusce e poi pozione di crescita. Essere una donna. Wow sembro davvero disgustoso e reale e sospettoso. Wow. Catena viola o questa? Gialla. Wow. Questa faccia o questa? Preferisco baciare la bocca. Che aspetto strano. Ora capelli viola o pelliccia viola? Capelli viola. Ora unghie rosse o unghie colorate? Rosso. Wow bello. Ora queste orecchie o queste? Viola. Così cool. Coda viola o ciano? Viola. Così grande. Respiro realistico o non realistico? Realistico. Oh mio dio. Così tanto fumo. Ultimo. Essere una Catnab Woman. Wow sto così bene. Aspettare. Perché sono così realistica? Il mio turno. Molti o uno? Molti. Wow sembriamo pazzi. Ora giallo. Bello. Ora rosa. Così cool. Ora arancione. Ora blu. Wow. Fresco. Ora rosso. Verde. Sorprendente. E bianco. Così ora cambia. Ora fulmine. Ora fiore. Wow stiamo iniziando ad avere un bel aspetto. Ora questo. E ora le orecchie. Wow così cool. Orecchie verdi. Così cool. Prossimo. Bello. Orecchie gialle. Ora questo. Wow siamo così cool. E ora gli occhi. Wow così cool. E ora cambiamo. Wow siamo così belli. Annoiarsi. Proprietario maschio o proprietario femmina. Proprietario ragazzo come nella vita. Wow. Ora questa faccia o questa. Questo è così realistico. Wow. Bel viso. Queste orecchie o queste. Katna. Wow belle orecchie. Cerniera o cerniera sul viso. Questo. Wow. Sembro un peluche. Queste mani o queste. Preferisco queste. Wow. Così cool. Ora normale o realistico. Realistico. Wow. Fumo normale o rosso. Rosso. O uccide. Ora occhi realistici o questi. Questi wow. Ora coda o coda. Coda. Buono. Questa testa o questo. Questo. Wow. Ora jumpscare o questo. Jumpscare. Wow sono spaventoso. E ultimo. Sì realistico. Aspetta. Sto facendo un glitch. Perché sono così realistico? Fratello perché siamo così realisti? Devi vedere le facce di tutti e poi fare l'upgrade. Ok. Prima a Mommy Long Legs. Sono il doppiatore di Mommy Long Legs. Un nuovo compagno di giochi. È passato così tanto tempo. Ti chiedo di giocare pulito. Aspetta. Mi sento aggiornato. Che miglioramento. Ora player. Oh. Cosa? Carlino un pilastro. Aspetta cosa? Non c'è modo. Papavero. È davvero a Poppy? Oh mio Dio. Ora io stesso a Cutnap. Così dolce. Ora rosso. Oh mio Dio. Un orso. Ora pollo. Aspetta mi sento aggiornato. Wow. Ora maiale. Dolce. Verde. È così dolce nella vita reale. Il mitico unicorno. Wow. Ora Cutnap Woman. Dovidei. È solo un cane. Ora modo. E l'ultimo a Kissy Missy. Non c'è modo. Così mi sento aggiornato. Sono più realista. Ma ora voglio di più. Per ottenere il prossimo upgrade dovrai sopravvivere a tutti i loro jumpscares. Tu per primo perdente. Non fa paura. Maial. Non fa paura per niente. Giallo. Vediamo. Quarto. Non siete spaventosi. Unicorno. Sfigati. Ora tu. Ora tu. Grado 15. È stato spaventoso ma sono sopravvissuto. Ciao. Ora appaga Pilar. Molto spaventoso. Player. Mommy Long Legs. È di livello 40. Hunt. Ora al Kissy Missy con Poppy. Ora ho Boxy Boo. Spaventoso. Cutnap. Sono quasi morto. E l'ultimo a Cutnap Woman. Sono sopravvissuta ma mi costerà e mi sento aggiornata. E sembro illuminato. Quindi ora mostrami come usi il tuo respiro. Lo so. Falso. È quasi morto. mmeno. Wow prof... Sei pronto. È il momento di fare il jump scare. Ho fatto l'upgrade e sembro illuminato, quindi ora mostrami come usi il tuo respiro. Bene, ora tu, ora lui. Non mi farò vedere, non giudicarmi. Era brutale. Davvero brutale. Ora lei, sembra reale. Ora tu, aspetta cosa. Wow, sembra finto. Ma io ti lascerò. Perché tu sei un po' troppo. Ora tu, ok, tu, sei falso per me. Ok, lui era falso. Quindi ora lui, è buono. Il tuo turno, bello bello. Ora lui, ok, è ultimo. Anche finto. Ah, andiamo. Aggiornamento per me. Wow, sembra un robot. Ora dite qualcosa o cantate. Secondo. Smiling Critters Cutdown every day. Bene, ora tu, ok. Welcome to the Smiling Critters Cutdown. Spero che non mi trovi perché sono uno vero. Il prossimo. One, two, Smiling Critters Shoot. Bene, ora lui. Smiling, 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 Smiling. Questo, morire. Ok, voi due cantate insieme. Bene, aggiornamento. Wow, ora Katla. Era bravo a nascondersi, quindi il punto peggiore viene eliminato. Dai, è tempo di cercare. Aspettare, vedo qualcuno. È un brutto posto. Esci, entra dentro. Forse su questa scala ora. Avevo ragione, esci. Era un buon posto. Quindi sei un tipo sveglio. H.M. controlliamo. Lo sapevo, esci. E aspetta. Vedo qualcuno. Ti ha preso. Ume, ne abbiamo trovati molti. Fammi vedere qui ora. Lo sapevo, ma ce ne sono altri. Vi ho preso tutti. Entrate. Avete avuto dei brutti nascondini. Quindi non siete sus. Ok. Ora ho bisogno di una radiografia. Wow, questo è un posto pazzesco. Tu sei super sensibile. Aspetta. Vedo qualcosa lì, ma non c'è nessuno. Oh, e il prossimo è qui. Vieni fuori. Brutto posto. Ne sono rimasti solo due. Ume, questo posto sembra buono. Lo sapevo. Non qui. Devo imbrogliare. Aspetta. Chi è questo? Ok. Eri il miglior nascondiglio. Mindy muori. Era Ugi Uagi. Così falso. Ora lancerò la pozione di bellezza. E vedrò cosa esce fuori. Fratello. Ora tu. Questo non è bello. Il prossimo. Wow, ok. Brù. Ora tu. Che cos'è questo? Ora lui. Ragazza robo. Ora lui. Wow. Due a sinistra. Wow. E ultimo. Donna TV. Lascia che ti bati. Oh no. Morire. Ok, ora mostrami cosa succede dopo aver mosso la coda. Oh no. Ora lui. Ha scoreggiato. Può essere real. Tu. Che diamine. È il tuo turno. Puoi essere tu quello vero. Il tuo turno. Fratello che diamine. Il prossimo. Aspetta. La sua coda è strana. Non riesco a toglierla. È strano. Il prossimo. Vediamo. E è gas soporifero. Ok. Ora tu. Si è trasformato in gatto. Non posso uccidere nessuno in questo momento. Aspetta. Mi sento aggiornato. Wow. Ora mostrami i tuoi ricordi. OMG. Ha usato il fumo. E loro sono morti. E lui è andato alle loro tombe. Potrebbe essere un ricordo reale. Successivo. Oh no. Il giocatore lo ha tradito. Può essere reale. Ci proverò perché non sono reale. Oh no. Ciao Katnap. Ciao Katnap. E io lo abbandonerò. Ora tocca a te. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È così triste. Può essere un vero e proprio sonnellino. Ora è il quarto. Ora è il tuo turno. Hai tagliato un pilastro. Questo è male. Guarda la sua faccia. È così triste. È così vicino. Devo cambiare la mia voce. Li ho appena uccisi. Il prossimo. Ciao. Ciao bambini. Ho un paio di ricordi. Vediamo. Tutti gli Ugi Ugi stavano cercando di dividerti a metà. Che tristezza. Il prossimo. Hai usato il tuo respiro per uccidere Critter sorridente. Questo è male. Molto male. Ora lui. Giocatore ha usato il suo zaino per far fuori i bambini dalla nascita. Aspetta. Ma non è la memoria del gatto. È la memoria dei giocatori. Ti ucciderò. Era Jax. E l'ultimo. Prima mi hanno gettato in una macchina tritatutto. Stava baciando le gambe lunghe della mamma davanti alle gambe lunghe del papà. E è stato davvero brutto. Stava piangendo per questo. Ma poi papà a gambe lunghe si è vendicato. Ok. Sei al sicuro. Ok. Ora disegnati. Ok. Il primo è bello. Il secondo. Perché c'è un coltello. Il prossimo. Questo sembra strano. E questo è rosso. Su. Aspetta. È un giocatore. Morire. È un cane. Morire. Mi sento aggiornato. Che diamine. È questo. Ok. Ora Katnapa ha fatto un salto in alto. Vince chi salta più in alto. Tu hai fatto il salto peggiore quindi eliminazione. Bene. Ok. Ora mostratemi di nuovo i vostri ricordi. Che diamine. È questo. Ok. Ora Katnapa ha fatto un salto in alto. Vince chi salta più in alto. Per favore non giudicatemi. Oh my God. Ok. Sono il primo. Buona la prima. Ok. Saltiamo. Hold up. Wait a minute. Così vicino. È il mio turno. Oh my God. Così vicino. Andiamo. Andiamo. Bru. Andiamo. Sono in cima. Andiamo. Ne sono rimasti solo tre. Cosa? Ne sono rimasti solo due ma io sono quello vero. Spero che non mi troverai. Tu hai fatto il salto peggiore quindi eliminazione. Bene. Ok. Ora mostratemi di nuovo i vostri ricordi. Il giocatore stava baciando una signorina baciata. Questo è strano. Sei falso per me. Morire. TV donna. Cosa? Sono rimaste solo quattro. Mi chiedo quale sia quello vero. Il tuo turno. Così Katnapa era con i suoi amici e stava combattendo con Ubiwaki. E loro lo hanno spaventato. Questo può essere vero. Ora tu. Che diavolo è questo? Questo è inappropriato e cattivo. Ora è il terzo. Un ragazzo lo ha usato e l'altro ragazzo è morto. E l'ultimo. Qualcuno ha mangiato il suo hamburger da McDonald's e poi Poppy lo ha ucciso. Questi sono ricordi reali. Ne rimangono solo quattro. Ok. Ora ha un compito davvero difficile. Voglio vedere la tua reazione al bacio della mamma con le gambe lunghe. No mamma gambe lunghe. Bacialo mamma. Ti è clonato da solo. Oh no. Questa è una reazione strana. Ora tu. Reazione strana. Sono diventato un mostro. Ma va bene. Andiamo mamma. Il prossimo. Cosa? Ha vomitato. Questo è male. E l'ultimo. TV donna. Cosa? Eliminazione. Sono tre rimasti. Questo non è cutnap. Morire. Ne rimangono solo due. Quindi indovino. Questo è falso. Quindi sei vero. Hai ragione. Andiamo. Grazie per aver guardato ragazzi e ciao. Mancano tutti. Ho bisogno di disegnare. Ora cutnap. Wow. 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 Fratello mi sento aggiornamento. Wow. Sono incredibile. Ok. Ora è il momento dell'introduzione. Prossimo disegno veloce. Oh mio dio. Il prossimo è mancante. E il prossimo è un cutnab. Fatto. E ora veloce qui. E l'ultimo cutnab. Ora disegniamo un dog day. E ora è il momento delle creature sorridenti. Mai. E' morta. Aspetta. Sento che sto crescendo. Wow. Ho 5 anni. Ok. Ora valuta tutti i loro jumpscares per invecchiare fino a 10 anni. Oh no. Ok. Prima tu. Oh mio dio. Ora tu. Fa male. Solo un paio di persone sono rimaste. Tu. Oh mio dio. Verde. Verde. Non mi sento bene. Tu. Ora elefante. Siete tutti a metà strada. Oh mio dio. Quindi ora Ugi Wagi S. La mia testa si è rotta. Ora Dino. E' solo il grado 2 e sto già morendo. Ora paga Pilar. Ora lui. Stai bene figliolo? Nessun. Giocatore. Coniglio Bonzo. Chi è questo e perché è al ventitresimo posto? Oh. Do not turn me green. I am not a green. Boxy Boo. Out. Non mi sono rimasti molti. Tu. Ora lui. Ai. Ora papà gambe lunghe. Mi sono rimaste solo 3. Ai. 2. E' l'ultimo. Sono sopravvissuto. E mi sento migliorato. Wow. Sembro così spaventoso. Lascia che ti valuti. Ha mostrato il suo utro al college show. Ciao. Ehi ragazzi. Lasciate che vi mostri la mia memoria. Come lo giudicate? Ha lanciato coltelli a Pammy. Doopdoopdoopdoopdoopdoopdoopdoopdoopdoop. La 더 scop that ! Don't worry my dear! You won't even die horribly! Well, I think we both had something to learn from that experience. Aveva Amiciercobaleno alla sua introduzione. Ha trasformato tutte le creature sorridenti in mutanti. Ora è l'elefante. Mio Dio, così disgustoso. E l'ultimo. Che diamine è questo? Ora ti muterò. Per me è stato brutto. Era un genio della matematica e aveva un grande cervello. Sì, sono intelligente. Essere intelligenti è un bene, ma sei comunque un... Bene. Evviva, è ora di aggiornarsi. Oh mio bene, sono così bello. Ok, ora devo baciare qualcuno per fare l'upgrade. Aspetta. Mi dispiace o no? Lascia che ti prenda. Lascia che ti lavi prima che i genitori ti vedano. Figlio, devi buttare via quella cosa. How many times have I told you to throw that thing away? Friendship stays forever. Free, thank you. I hate this. Don't worry son, I got you something else. Come, thank you dance. Wow! Bel lavoro. Li abbiamo uccisi. Ora penso che sia un miglioramento. Wow, sto così bene. Aspetta, chi è questa? OMG è così bella. Vieni e inseguimi. Torna qui. Aspetta cosa è successo. Trova quello vero e dopo ogni uccisione ti migliorerai. Quale dei due è vero? Prima vediamo la tua coda. Umme, questo è davvero sus. Lasciami tirare fuori. Lo sapevo. Morire. Mi sento migliorato. Wow, sono epico. Ora, questo sembra un po' sospetto, ma non ti eliminerò ancora. Molti di loro sono sospetti. Aspetta, perché hai Boxibu dietro di te? Mostrami la tua faccia. Boxibu. Lo sapevo. Ora fammi vedere i piedi. Ok. Questo è normale. Ok. Aspetta. Questo è sus. Buono. Questo è strano. Aspetta. Hai quattro piedi. Questo è strano. Normale. E tu hai dei piedi strani. Per me sei il più strano. Lo sapevo. Papà, gambe lunghe. Morire. Aggiornamento. Wow, sto così bene. Ok. Ora mostrami i tuoi ricordi. Ok. Tu. Tipo di suss. Tu. Ok. Ora questo. Era sus. Il tuo turno. È stato un sus anche per te. Ora donna gattaiola dai capelli rossi. Fido. Ora questo. Ora tu. Aspetta. Questo è veramente sus. Mostrami la tua faccia. Unicorno. Lo sapevo. Mi sento aggiornato. Wow. Sto così bene. Ok. Quindi la prossima categoria. Mi fa impazzire. Katnab. Do the trick for us. Yeah. Do the trick. Do the trick. Oh, you mean this trick? I don't know what it was. But something about that cat just made us all feel safe. Buono. Tu. Oh mio dio. Due a sinistra. E l'ultimo. Sei falso. Lo sapevo. Opio scotch. Mi sento aggiornato. Oh mio dio. Cos'è questo? Ok. Ora disegnate voi stessi e mostratemi il disegno. Prima. Bene. Questo è sus. Quarto. Buono. Bello. Ben fatto. Aspettare. Questo è strano. Bello. Aspetta. Cos'è questo? Non è un sonnellino. E ho un gatto dolce. Morire. Finzi. Lo sapevo. Ok. Oggi è il mio compleanno. Quindi fammi vedere cosa hai preso per me. Cacca di gatto. Cosa? Sus. Tu. Freddy fa sbeare. Prossimo. Oh no questo gatto. Non può essere vero. Prossimo. Abbracciare i wujes. Ora tu. Ma no. Questo è sus. Prossimo. Oh no. Cos'è questo? Ma questo può essere reale perché sa cosa mangio. Prossimo. Oh mio dio no. Avanti. Aspetta. Cos'è questo? E l'ultimo. Freddy fa sbear? Questo è falso. Morire. Mi sento migliorato. Wow. Sembro così gigante e buono. Ok. Ora mostrami la tua reazione quando ti togli la coda. Fumo a tre colori? E' strano. La seconda. Aspetta. Cosa? Perché ha un figlio di un giorno da cani? Strano. Terzo. Disgustoso. Successivo. Aspettare. Perché assomiglia a mamma gambe lunghe? Non importa. Prossimo. Aspetta. Ha vomitato un carlino. Che non può essere reale. Prossimo. Cuori. E' strano. Prossimo. Disgustoso. Prossimo uno. Wow. Ok. Il prossimo. Drew. E' ultimo. E' anormale. Ok. Ora voglio vedere i tuoi film. Aspetta. Sono tre film di Ugi Uges. Lo sapevo. Ah. Il prossimo. Wow incredibile. Il prossimo. Viviamo. Non così tanto. Ora tu. Non male. Ora lei. Buono. Ora tu. S.M.I.R.E. Bello. E' l'ultimo. Vediamo. Oh. Do not turn me green. I am not a green. Non è la Katnap woman. Lo sapevo. Mi sento aggiornato. OMG ho tre teste. Aspettate. Questo è davvero un sus. Mostrami la tua faccia. OMG non è possibile. Tempo di aggiornamento. Oh mio. Sembra così bello. Ora la donna Katnap aveva un salto molto alto con il salto più basso. perde. Oh no. Sono il primo. Blu così male. Sono il prossimo. Andiamo. Bello. Facciamolo. Ah facile. Sono il prossimo. Cosa? Non c'è modo. Io sono il prossimo. E io sono l'ultimo. Morire. Aggiornamento. OMG. Sembro incredibile. Ora ti ucciderò. E vedrò cosa c'è dentro la tua bara. Primo. Buono. Il prossimo. Buono. Terzo. Bello. Non sembra finto. Quarto. Questo è un po' sus. Successivo. Ok. Successivo. Ok. Successivo. Aspetta cosa? Mamma gambe lunghe. Morire. Ne rimangono cinque. Quindi mostrami la tua mutazione. Oh mio dio. Il secondo. Così buono. Il terzo. Un ragno. Bello. Il prossimo. Aspetta Missy e Poppy. Morire. L'ultimo. Ancora tu? Cosa? Quindi ne sono rimasti solo tre. Quindi ora mostratemi i vostri animali domestici. Buono. Il prossimo. Sembra finto. E ultimo. Buono. Ma immagino che questo sia falso perché ha le ali. Ah. E questa è la vera donna Krapnap. Sì. Sono io quello vero. Yaya. Vieni qui. Dove è stato catturato e ho bisogno di controllare quale è reale. Quindi mostrami il tuo jumpstart. Spaventoso e sembra vero. Secondo. Sembra reale. Successivo. Out. Ora questo. Per favore qualcuno mi aiuti. Il prossimo questo tipo. Molto reale. Ora il quinto. Sembra reale. Il prossimo. Ora lui. Oh mio dio. Spaventoso. Ora questo ragazzo. Ok. Non ne sono rimasti molti. In suo turno. Reale. Ora questo. Anche lui è reale. Il prossimo. Un po' a sospetto. Ora lui. Molto molto sospetto. Due rimasti. Andiamo. Aiuto. E l'ultimo. È totalmente falso. Morire. Mi sento aggiornato. Wow. Sembro più reale. Quindi ora mostrami la tua scena del gioco. Preciso. Ora lui. Era una scena molto spaventosa. Preciso. Just go. Ok. Il prossimo. Mi ha portato lì. Era buono. Ora tu. Così gli ho sparato del fumo. Un po' a sospettoso. Tu. Ho usato tutto il mio potere. Non sospettoso. Il prossimo. Ora tu. Ok. Ora questo. Non sospetto. E questo? Aspetta questo è davvero sospetto. Mostrami la tua faccia. Pinguino. Non c'è modo. E cosa c'è sotto di te? Avevi questo nella pancia. Morire. Mi sento aggiornato. Wow. Sembro pazza. Quindi ora mostrami cosa hai dentro di te. Smiling critters. Reale. Ora tu. Cosa? Non sospetto. Ora questo. Che cos'è questo? Paga Pillar. Sospettoso. Lui. Cacca. Ora questo. Famiglia Dog Day. Che può essere reale. Ora lui. I cani. I cani. I cani. I cani. I cani. Ok. Il prossimo. Floppa. Ora lui. Prototipo. È sospetto. Il prossimo. Catmab. Non può essere reale. Ora lui. Mano di cane. E tu. Cacca. Ora lui. Pratti. E ultimo. Poppies. Questo è falso. Morire. Kissi Missi. Lo sapevo. Morire. Non ne sono rimasti molti. Quindi ora mostratemi le vostre voci. Ok. Ok il terzo. Non male. Ora lui. Quinto. Sembra buono. Successivo. Figo. Tu. Aspetta. È falso. Freddy fa sbeare. Lo sapevo. Aspetta. Sono caduto per aggiornarmi. Wow. Sembro spaventuoso. Oh mio dio. Ora tu. Figo. Tu. Ok. Il tuo turno. Prossimo. Il prossimo. Figo. Ora tu. E ultimo. Just keep smiling. Just keep smiling. Sussing it. Ok. Siete tutti veri. Ora mostratemi le vostre facce. Lui. Prossimo. Griffin. Ok. Prossimo. Lenkybox. È reale ma sospetto. Voi. Dora. Strano. Successivo. Senza testa. Prossimo. Minion. Prossimo. Ragazza Fortnite. Ora tu. Drew. Ora tu. Catmab. Prossimo. Cosa. Tu. Che diamine. Non riesco a capire quale sia quello vero. Ok. Dog Day non aveva le gambe. Quindi mostrami le tue gambe prima di essere tagliato. Wow. Questo può essere vero. Successivo. Gambe di SCP. Strano. Mommy Long Legs. Gambe a fiore. Non assomigliano a Dog Day. Gambe di Missy Kissy. Wow. Questo è sospetto. Gambe robotiche. Abito e gambe di Poppy. Ali di pollo. Gambe di donna. Questo è davvero sospetto perché Dog Day è un uomo. Lo sapevo. Mommy Long Legs. Morire. Mi sento migliorata. Wow. Sono incredibile. Ok. Ora mostrami i tuoi disegni. Prima. Aspetta. Questa è la donna del giorno del cane. Davvero sospettoso. Tu. Ok. Bene. Tu. Buono ma strano. Wow. È divertente. Buono. Aspetta. Cos'è questo? Ok. Sta diventando sospetto. Ok. Bene. Bello. Wow. Aspetta catnab. Perché mi hai disegnato? Fratellino. Morire. Mini catnab. Morire. Aggiornamento. Wow. Ha un aspetto fantastico. Ok. Ora è il momento di usare la pozione. Wow. Successivo. Ok. Non è sospetto. Voi. Figo. Tu. Oh mio Dio. Cos'è questo? Spaventoso. Il tuo turno. Wow. È pazzesco. Ora tu. Sembra un Freddy Fazbear. Wow. Ora lui. Wow. Prossimo. Ok. Non sospetto. Ora lui. Wow. È l'ultimo. Oh mio Dio. È Miss Delight. Morire. Sento l'aggiornamento. Aspetta. Cos'è questo aggiornamento? Sono una donna catnab. Ho bisogno di cambiare il prima possibile. Ok. Ora disegnami la tua cotta. Ho disegnato la mia cotta. Questo non sembra sospetto. Il prossimo. Ok. Questa può essere la tua cotta. Ok bello. Buono. Bene. Molto bene. Catnab. Il giorno del cane odia catnab. Sei falso. Morire. Aspetta. Mi sento aggiornato. Sono un robot ora. Quindi mostrami di nuovo i tuoi jumpscares. Prima. Aspetta. È falso. Morire. Lo sapevo. Ugiwagi. Ok il prossimo. Oh c'è un falso. Lo sapevo. Miss Delight. Ora tu. Anche questo è falso. Cosa? Smiling Twitters? Non c'è modo. Ora lui. Qualcuno ha ucciso Jumbo Josh. Chi ha fatto questo a mio figlio? Non preoccupatevi. Famiglia Jumbo. Troverò l'assassino. Bambalena. Vedo un fiocco su di lui. I don't know. Looks kind of suspect. Sei stato tu? No mai. Lo stavo mutando in laboratorio. Bambalena ti amo. Ehi. Bevi questo per un amore migliore. Grazie. Salute. Non mi sento così bene. Siamo mutati. Ma io ti amo ancora. Aspetta. Cosa? Uno. Mi hai ingannato. Dottore mi dia la pozione. Ome chi c'era in questa macchina? Lumaca Selene. No. Stavo disegnando le cose. Ok fammi disegnare la mia cotta. Perfetto. Anch'io voglio disegnare. Vieni per un bacio. Cos'è questo? O me è strano. Aspetta. Vedo una più. Forse eri tuopila. Oh no. Oh no. Le mie dolci uova. Rimanete qui. O la mia cena. Dove siamo? Ehi. Restituirete i miei bambini. Ora. Mi dispiace. Mai. Ok. Allora è stato opila. No. Non sono stato io. L'hai spaventato a morte. Cosa sta succedendo? Oddio. L'uccello è morto. Nab Nab. Sei accanto a lei. Sei stato tu. No. Era Halloween. Li prenderò facilmente. Vieni qui. Ah ti ho preso ora. Facile. Andiamo a prenderne altri. Vedo altre due vittime. Ah. Facciamo un jump scare. Aspetta. Cosa? Oddio. Devo scappare. Oddio. Ha rubato jumbo. L'abbiamo preso. Era la mano di Finger Finn. No. Non sono stato io. L'ho portato in camera. Fammi uscire per favore. L'hai dato in pasto ai tuoi figli. Il caso è chiuso. No. Ah di nuovo. Ehi. È morto. Aspetta. Vedo qualcosa di sospetto. Sangue. Fammi spostarla. Oddio. Stanza segreta. Ehi. Ehi. No. Non è come pensate. Sei stato tu pigster. Lasciate che vi mostri la storia. La persona che salta più lontano vince un prezzo. Oh my god. Vincerò questo. No. Vincerò io. Sono il primo. Spero che nessuno salti più in là. Il mio turno. Vittoria facile. Sono l'ultimo. Au. Ok. È la fine della gara. Aspetta ma chi è questo? Ok se non sei stato tu. Allora Big Fiddles sei stato tu. No mai. Non lo farei mai. Era fastidioso. Ah stupido Fiddles. Ok. Quindi se non sei stato tu. Facciamo un ultimo interrogatorio. Prima. Bigster. Aveva tre figli. Ma Jambo Josh li ha rubati e mangiati. Penso che sia il momento. La mia cena è pronta. No. No. Ti cuciniamo. Perfetto. Lascia che io ti mangi. Buono. Dove siamo? Penso che ci abbia mangiato. Non è stata colpa tua. Bene. Il prossimo. La sua storia mostra che da persona ha iniziato a mangiare Jambo Josh ed è così che è diventata la Pigster. Wow è pazzesco. Prima era la Peppa Piggy. Ma Jambo Josh ha gettato lei e suo fratello in una pentola con acqua tossica. Questa casa è strana. Fammi entrare. E me. Oh hello there. Strane creature. Ciao. Cosa ci hai fatto? E me. Oh my god. Mi dispiace. No 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 no. E me. Poi. Era estremamente arrabbiata con Jambo Josh e l'ha spaventato a morte. Cosa vuoi da me? È troppo. Ah. Credo che tu possa ucciderlo. Sei sulla lista dei sospettati. Il prossimo sospettato. Bambalena. È mutata ed è diventata brutta a causa di Jambo Josh. Ehi. Cosa mi hai fatto? Mi dispiace. Era innamorata di Bambana ma Jambo Josh la maltrattava. Bambalena voglio chiederti una cosa. Cosa? Vuoi sposarmi? Oddio sì. Non sotto il mio controllo. Smettila di fare il bullo con lui. Ehi. Per favore. Agri. Ha preso una F per aver litigato con Jambo Josh. Gli è passata sopra con il suo grande camion. Ah perdente. Smettila. Bamban non preoccuparti. Ti salverò io. Aspetta cosa? Prima che il camion colpisca Jambo, metti a mi piace e a iscriviti per avere fortuna per i prossimi video. dieci giorni. Ok. È molto sospetto. Spero che l'incidente non l'abbia ucciso. Ma anche lei è sospettata. Prossimo. Ha lanciato la gru su Jambo Josh e lui non si è potuto muovere. Un giorno normale in Ohio. È ora di distruggere questa gru. Oh me. Cos'era questo? Cos'era quello? E me. Aiuto. Non l'ha ucciso lei, ma controlliamo l'atto successivo. L'ha gettato in un sacco e poi l'ha gettato nel lago. Sono passati dieci giorni. Per favore aiutatemi. Ok. Ti porterò con me. Oddio, sei così pesante. È ora di finirti. Ciao, ciao. Non c'è modo di ucciderlo in questo modo. Poi ha cambiato la traiettoria di volo dell'aereo ed è volato dritto verso Jambo Josh. Vedo l'aereo. Atterriamo proprio sul Jambo. Ah. Ok, ti abbiamo preso. L'hai ucciso tu. Perché? È stato perché ha distrutto la mia vita. Lasciate che vi racconti una storia della mia infanzia. Ehi ragazzi, è il mio compleanno. No, preferiamo la festa di Jambo Josh. Vieni, vieni a lasciare questo Zolfius. Oddio, sono così triste. Mi dispiace, ma ti meriti comunque la prigione. No. Aspetta, ho trovato una borsa. Vediamo cosa c'è dentro. Nab Nab. Nab Nab. Aspetta, Nab Nab. Pensavo fosse Jambo. Oddio, hai lanciato la borsa sbagliata. Beh. Vai via, non sei un sospettato. Ok, credo di sapere chi è stato. Controlliamo Fiddles. Jambo Josh stava usando il bastone per far piangere Fiddles e poi ha allagato l'intera mappa. È ora di far arrabbiare Fiddles. Smettila. Voglio piangere. Ah, oddio, smettila. Non posso. Oh no. Ehi. Aiuto. Ah. Ti stava facendo arrabbiare. Il prossimo. Quando Jambo Josh ha festeggiato il compleanno, non ha apprezzato il regalo di Fiddles. What? Ehi ragazzi, è il mio compleanno. Sto aspettando i regali. Uovo d'oro per te. Brutto regalo. Il prossimo. Pesce. Cosa? Jump scare. Il prossimo. Prendi questo. Che cos'è questo? No. Il prossimo. Sedia da gioco. Oh bello. Nice. Grazie. Il prossimo. Una pistola per te. Grazie. Ultimo. Ho preparato la cena per te, perché non ho soldi. Disgustoso. Ok, è tutto. Abbastanza. Jambo Josh voleva vignicarsi di tutti i personaggi di Agarten of Bambanna e li disegnava come mutanti. Sono così arrabbiato con voi che vi cambierò tutti. Non mi sento molto bene. Ora l'umacasseline. Ora nab nab. Ultimo. Fiddles. Ah. Sei brutto ora. Sono così arrabbiato. Big Fiddles era così arrabbiato con Jambo Josh che lo colpì con il braccio. E me si potrebbe ucciderlo con questo jumpscare. Sei un sospetto. Era così puzzolente che Jambo è svenuto per questo. Controllerò il tuo alito. No, 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 no. Ehi. Quando si è svegliato ha iniziato ad essere estremamente arrabbiato per Joe il puzzolente e gli ha fatto la cacca addosso. Hai fatto la cacca su Jambo. Non è possibile. Fratello, sei così disgustoso. Joe il puzzolente voleva far fuori Jambo Josh e metterlo sulle notaie. Sono così arrabbiato con te, Jambo Josh. Ora ciao ciao. Quindi sei stato tu. No, perché è sopravvissuto. Ok, questo è giusto. Il prossimo. Quando Jambo Josh morì, si trovava in questo posto e vide un assassino che scattava. Siamo al sicuro qui. Cosa? Chi ha fatto questo? Lo vedo. Torna indietro. Trovò l'assassino, ma lo accoltellò e quasi morì. Hai trovato l'assassino? Sì. Qui. Ok. E me? Non è possibile. Non sono stato io. Controlliamo. Era il migliore amico di Jambo Josh e facevano i prepotenti. Hanno litigato a causa di una ragazza. Lo squalo ha gettato Josh il gigante nella lava e lo teneva solo con le mani. Cosa? Vediamo. Per favore, non farlo. Per favore. Sospettoso. Ora tu. Jambo Josh ha sposato la sua cotta bambalena. Cosa sta succedendo qui? Jambo Josh, vuoi sposare bambalena? Sì. Non è possibile. Non può essere così. È ora di finirla. Oh no. No. Ah, Jambo. Sto facendo un torneo. Chi vincerà otterrà il cuore di bambalena. Ok. Scegli il veicolo. Lambo. Ok. Prima io. Wow, non mi batterà. È il mio turno. Allora, ho vinto. Ah, andiamo. Bambalena è mia. Non può essere così. Quindi hai fatto questo. Mi dispiace. Ok, è troppo tardi. Andrai in prigione. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato l'assassino. Ricordate di non arrendervi mai e di non arrendervi mai più.